La lista Uniti per Poppi riconferma la candidatura dell'attuale sindaco Graziano Agostini per Poppi. Chi sostiene la lista che lei rappresenta? La nostra lista è una lista di impostazione civica, come la stragrande maggioranza delle liste sotto i 15.000 abitanti. Ed è sostenuta da cittadini cattolici e laici di ispirazione comunque riformista, democratica. I punti qualificanti della lista? Un comune dell'Alto Casentino deve avere a cuore le strutture viarie, quindi completare e continuare sul lavoro di accordo di programma con la provincia e la regione per migliorare le strutture viarie, renderle più sicure, le strutture sanitarie, sociosanitarie e non ultima le strutture scolastiche, quindi la scuola pubblica, il completamento della messa a norma di tutti gli edifici nessun escluso per la sicurezza dei nostri bambini e poi le strutture destinate alla socializzazione fra le diverse età, quindi per gli anziani, il centro sociale, i centro giovani, i rapporti con le praloco e l'associazionismo sportivo. Qual è la priorità per il comune? Pur in presenza di questo blocco dato dal patto di stabilità che noi chiediamo di rimuovere, il nostro obiettivo prioritario è continuare negli investimenti a sostegno delle strutture e in più continuare a lavorare con la regione toscana sul problema del dissesto idrogeologico della valle.